Non ci sono aule e noi facciamo lezione all'aperto. Alunni e insegnanti del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela protestano così contro la mancanza di classi che si registra nell'istituto di Via Pitagora. Il dirigente scolastico Angelo Tuccio denuncia il rimpallo di responsabilità tra i vari uffici della provincia e chi ne piange le conseguenze sono gli studenti. È chiaro che io voglio che i nostri alunni abbiano aule, dotazioni, un ultimediale e tutto. Ma quando a fronte di numerose richieste la provincia si fa sorda e non sembrano esserci altre soluzioni, l'unica soluzione possibile sembra quella di fare lezioni all'esterno. Quindi se odolato la scuola è una scuola attiva, una scuola aperta al territorio, una scuola propositiva, una scuola di eccellenza, viene pertanto penalizzata perché questa scuola è una scuola che fa numeri. E allora noi numeri non li dobbiamo fare, noi dobbiamo privare i ragazzi del loro diritto allo studio. Dobbiamo fare delle gradatorie. Chi può andare al liceo scientifico, al liceo linguistico e chi non può. Queste sono le decisioni che la provincia prenderà. La nostra scuola ha lanciato una petizione che è visibile sul sito, sull'ombeggio della nostra scuola www.liceovittorini.gov.it una petizione visibile per che si propone comunque l'ottenimento delle aule necessarie che spero la cittadinanza tutta ferme.